che sta cavolo a vedere inizio di salerno prego prego come come ci ha trovati a lei a lei certo ecco va a vedere chi sta sopra il cavallo ma scusa come fai a sapere questo video che io l'ho visto ieri non serve più ma io l'ho guardato stamattino sto video io ma ci sono state di vendere il pesce che poi quello dicono guarda che figura aspetta che faccio la storia che stiamo live sta parlando lui allora fratelli capone mi ascolti fratelli capone mi sente? che dice? capone? dica allora lei lo ha mai visto un cavallo? si chi sta sopra si la domanda è chi sta sopra il cavallo? quelli pristi quelli pristi no fa Anto vai a vedere chi sta sopra il cavallo franje franje vai a vedere chi sta sopra il cavallo ma no ma dove manda suo fratello? mi scusi dove lo manda? no no mia non serve più non serve più ma quello che sta solitamente sopra il cavallo non è che manda suo fratello a vedere un cavallo aspetta che faccio la storia franje vai a vedere chi sta sopra il cavallo chi ci sta sopra il cavallo? l'equilibrista l'equilibrista siamo in live signori nuovo aggiornamento e nuova live nuovi incarichi tutte le cose vabbè sempre il solito fortnite ma dicono che si è migliorato vediamo ma io le skin sembrano più realistiche cioè tutta la grafica è molto più molto più molto più realistica attenzione al picchio che ci guarda il culo da 16 mesi e scrive mo arrivo 5 minuti ti aspettiamo intanto ne startiamo una che dici Sam? intanto la storia l'ho fatta scrivo che siamo online intanto metto pronto tu non hai ancora provato no? grazie per la sub picchio ma stasera il meme di stasera te lo dico è questo limone! chi scrive il picchio Sam dice a te mette la musica domani gli rimando domani gli rimando sono passate tre settimane mi sembra da quando doveva pagare picchio e vabbè e vabbè e vabbè ma piano ti metta un debito di 300 euro tanto perché quando gli devono dare a te diventa il problema no? quando li devi dare non è mai un problema per gli altri che vuoi che sia eh no Francia è equilibrista equilibrista di cavallo atleta atleta di cavallo no ma la cosa bella Samu che io ho guardato quel video ieri sera mi è venuto in mente quel video ieri sera me lo sono riguardato ho capito ma mi è venuto in mente dallo 0 a 0 e tu adesso mi stai venendo fuori con sta roba eh beh telepatia equilibrista 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 sardo eh sì c'è una grande tradizione di 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 cose sardi cosa fanno formaggi cosa fa cosa fa cosa fa l'atleta sardo sopra il cavallo di formaggio formaggio atleta di cavallo ok storie fatte ci siamo hanno rimesso lo scarro hanno rimesso lo scarro e c'è anche altra roba devastante io spero che mi regano gli fps perché ieri mi andava grandi picchi di fps no perché è molto più pesante la grafica è nuova la mappa è completamente nuova cioè in realtà è quella vecchia se non ho capito male totalmente nuova per noi che non giochiamo dall'inizio però ho letto su internet che è una di quelle vecchie che fa con le mani togli le mani togli che fa tocca mi tocca mio fratello mi tocca con le mani suo fratello la tocca mio fratello la tocca e quelli prista e quelli prista e a terra qua che c'è anche altre otto persone che mi uccideranno io sto vedendo tutto a scatti te lo dio io non c'ho un'arma te a scatti e quelli prista di scatti ma stai volando non è che vedi tutti a scatti te lo dico ma non c'è un'arma in questo palazzo com'è possibile ma con le build certo che con le build per forza e mi stanno sparando ma non c'è lo scavalcamento si c'è una specie di scavalcamento automatico però mi stanno distruggendo no io non riesco a giocare perché sta laggando tutto e mi stanno sparando tutto e qui non si può buildare ma che è ah ma perché non ho non ho la connessione del telefono ecco perché lagga che connessione stai usando scusami eh vabbè ma non c'è un'arma non c'ho qui l'altro deve cambiare la connessione ma è sei anni che facciamo le live ora crash ma invece no ora crash tre settimane che non paghi ha detto il picchio ma è sta fermo questo tutte le volte facciamo le live c'è sempre qualcosa che non basta è incredibile ti senti? si ti sento eh sei ristabilita poi ho riuscito a cambiare la connessione e a non abbandonare la partita e non sei neanche morto c'è incredibile c'è il mondo trova un'arma fai qualcosa per carità ci sono armi? eh no non c'è armi guarda se volevo le pozzine di sicuro non le trovavo c'è due persone davanti a te non so se le hai viste prenditi lo scar e lavati di culo sono dietro di te sono dietro di te al sinistra da te c'è la gente non l'ha vista non l'ha vista ma con le build? si ma fatti gli sti due shieldini c'è uno lì non so se l'hai visto che sopra la scala c'è uno no 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 scappiamo due ore che te lo dico pinga un cavallo pinga un cavallo c'è l'hai lì accanto il cavallo andiamo qua giù lontano lontano lì è troppo vicino ma che è troppo vicino? è lontanissimo lì c'è la gente ma che c'è la gente non c'è nessuno 500 metri lo chiami vicino? dai mi sembri Antonio i fratelli Capone minchia guarda l'acqua no è spettacolare la grafica suuuuun buona suuuun per Sabiris come stai? perché chiudi Whatsapp? come stai Sab? tutto bene? hanno aggiornato tutto qui è tutto molto mistico adesso c'è tutte le cose hanno messo le armi che sparano perché sono già che ma è chiuso Whatsapp hai rotto il cazzo ce l'ho da dire e intanto datti una mossa che sei ore che ti aspettiamo se no facciamo giocare Sab adesso Sab connettiti entri con noi forse adesso che posso seguirti meglio perché? che senso Sab? che è successo? ti sei laureato finalmente? complimenti congratulazioni come si dice e condolianze anche come si dice in queste case tutte te le dico buone feste no quello si dice matrimonio hai matrimonio condolianze al matrimonio giusto condolianze e figli maschi dicono sempre matrimoni oh Tommy ho platinato il gioco di SpongeBob ieri perché hai un gioco di SpongeBob tu? si era un gioco gratis col plus bellissimo non so se questo mese o lo scorso mese ma è quello delle corse? ma no era un platform cioè tipo un mondo dove tu mi prendi i collezionabili stile vecchio gioco ah si ma era difficile si era difficile perché era fatto male o era difficile perché? no era difficile perché io pensavo fosse un gioco per bambini cioè in teoria sì però ci sono alcune cose che se non sei grande non le puoi fare vieni qua che ti sguazzo non viene quello quello non viene ma non viene lui allora mi faccio lo solo io ho un cardo bestia 70 termosifoni a cesti ma cosa stai vivendo? sub come mai manca ancora un po' cioè no manca ancora un po' ok ma cos'è che puoi seguirmi meglio? 5 minuti arrivo ok hanno messo questi potenziamenti power up non so se li vedi che puoi scegliere ogni tot minuti te li fanno attivare ma non è stata le armi che usa la munizione del genere si ricaricano più in fretta arciere meccanico ricevi un arco esplosivo un arco meccanico onda d'urto no le pistole hanno capacità un vero cazzo guerriero dei boschi sono sono un boscaiolo adesso questo semestre ne ho 4 e poi tirocino siuum e allora perché puoi seguirmi meglio? che hai fatto? manolesta sembra qualcosa di pornazzo perché lo è via andiamo a fare qualche fight così moriamo subito come ho fatto già 3 secondi fa no frate ma sta roba è incredibile cioè ho ho fatto anche un'altra abilità dove mi potenzia la ricarica del d'arco sei già riuscito a farne due? è quella la cosa è bellissima l'ho detto che ti piace tra l'altro hanno messo anche la skin di picchio cos'è? non è monster hunter cos'è? no è Geraldi Nivia quello che hai detto te è the witcher monster hunter ah ok ora puoi seguirmi meglio perché sei in diretta va bene ok baciamone per te Sabairis comunque io il passo l'ho preso perché ci avevo mi ha dato soldi e i V-Bucks ce l'avevo quindi vabbè che tu sei un grande V-Bucks c'è il moto c'è il moto mi prendo subito una scendi scendi voglio spaccare aspettami per spaccare le cose e poi aspettami la bici fermati non avevo la gara ma stai fermo ma stai fermo aspettami bellissimo si può saltare? si può saltare ma è bellissimo ma come lo guida? devi accelerare marciare il patentino? guarda che trick guarda che trick incredibile non sto capendo niente posso anche sparare mentre sparo? si e come faccio? ma scusa come faccio a curvare mentre sparo? incredibile bellissimo bellissimo ma vabbè il gioco non c'è più bisogno di sparare questo gioco qua ormai con le moto cosa fai? stai buono che mi fai le cose i lingotti d'oro che se non lingotti questo è mio mi piace ti lascio questo blu se lo vuoi scusate c'è stato un attimo c'è stato un attimo posso sparare mentre sparo certo uscita pilota salto guarda che trick watch me come hai fatto? come hai fatto? poi mamma mia sono attenuato malissimo di schiena come hai fatto? a me non me l'ha fatto il trick perché? il trick e ballacche non l'ha fatto vabbè andiamo a cercare qualcuno qualcuno da sparare non hai ancora imparato che io gioco col mouse col mouse verticale non l'ho ancora imparato lui continua a dirmi i tasti della playstation poi le evoluzioni le fai con la levetta certo certo chiarissimo ma io non ho bisogno di evoluzioni perché ma come? no però voglio capire come fare hai visto? hai visto? hai fatto un trick anch'io non so se hai visto mamma mia guardali doppio 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 possiamo essere tornati a trial fusion mouse verticale batte il mouse clip non lo so i miei dubbi ragazzi ho fatto un front flip mi sono rotto il osso del collo per fare sta cosa ma poi la quantità di benzina è devastante mamma mia che divertimento mi sto diventando tantissimo mi ricorda i tempi di Crash Bandicoot di Crash Tag Team Racing a me ricorda GTA no vabbè non potevi saltare a fare i trick così vabbè però ti buttavi di sotto dalle montagne andiamo sulla montagna più alta andiamo sulla montagna più alta dai è roba nuova è roba nuova come se fosse GTA mi sono appena ricordato che non sono ancora artista in tutto questo è vero ma non l'hai attivata? non si è capito quella cosa come funziona sub io te l'ho messa però non siamo riusciti a farlo fare mamma mia butto di tardi lupo ma è quello che sto facendo da un'ora poi sto logando dai picchio noi siamo qui che facciamo le gare ma accettate non ha funzionato non so che dirti sub sinceramente veramente non so non so che dirti comunque non si subisce l'anno ma è che da qualcosa a fare i punti ma che ne so l'esperienza c'è qualcuno da me preso ma c'è un altro ma sei tu o un altro non sto capendo ma si può sparare mentre vai in moto si è due ore che l'ho detto sta molto affaitando con uno che non vedo tra l'altro è tutto buio qua fatti due andrà buonasera grazie per i 14 mesi grazie mille per la sub c'è sta roba che è? ho sentito un audio fortissimo ma stai fermo per cortesia che sono quasi morto Gianni il malvagio mi ha bloccato perché sapeva che non avevo usato le molte di clip ma tu la puoi usare comunque però si non dirmi che non la puoi usare perché piango d'altro non so se avete notato le mega kill che ho fatto senza vedere il niente ma cosa guardami si lo so è l'abilità del martello se tieni premuto ti fa 4 rimbalzi ok doppia kill senza ho finito tutte le abilità come non puoi usarla sub io piango se non la puoi usare buonasera eccolo buonasera picchio sto mangiando i frutti del mare questi ananas che crescono sulle piante chissà se l'ananas cresce così lui vuole i soldi vuole i soldi picchio allora medico a bomba questo è bello il primo colpo del proiettile del caricatore d'assalto fa danni maggiori anche io ma dobbiamo andare un altro ne posso usare dobbiamo andare in build ma facciamo anche questo ma riempiamoci di poteri incredibili ma anche una chiave tra l'altro beh beh che dire lancia razzi ce lo prendiamo ma si ma è gazzissimo questo martello oh oh la safe mi ero appena curato e poi hanno introdotto questo scavallamento molto parkour che ho finito la stamina quindi non la posso fare peccato tanto si stava parlando ieri con quei parkour di fare una rimpatriata Tommy si che c'è pannocchia cioè si può contattare anche pannocchia e scusami se no chi altro mi ha contattato quelli sono c'è Dani c'è Fede c'è Nico Dani ma Dani manco me lo ricordavo Dani pensate Fede ma nemmeno Fede mi ricordavo questa chest non apri questa chest malvagia comunque sub novità ne hai cos'è sta roba questo è un fucile a pompa oro provalo 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 eh ma non c'ho quadrato per prenderlo non so perché è molto stra che cosa è successo quando colpisce le cose esplodono non so se hai visto guarda questa roccia c'ha un colpo esplosivo eh c'ha un colpo esplosivo eh ma prenditi quest'altro pompa che è oro anche questo no no c'ho l'arco e l'assalto ho capito il pompa oro lo lasci qua siamo pazzi no no c'ho il martellone per far casino e allora lascio lascio lanciarazio eh per forza tengo questo che fa le esplosioni strane c'è gente dietro di noi eh sab insomma ti dicevo novità incredibili novità ho avuto una colica renale ieri stavo esplodendo male muovi tutto bene sono un po' stanco cavolo mi dispiace meno male ti sei ripreso ah è medico lei io sab iris citazione no questa non ho capito è una colica le coliche sono quelli che fanno i video mi spavano comunque ha la grande capacità fortnite ogni volta che viene aggiornato che sembra di giocare a un gioco nuovo e non mi riesce c'è un attivissimo che mi sta venendo addosso lo intuisco mi riesco a buildare però perché non mi fa la muraglia cinese non mi fa ecco le moto no io sono qua che sto cercando di capire se c'è un momento vabbè questo è un po' dubbioso nel suo stile di gioco è scappato è scappato cavolo è tipo one shot io non sto a giocare con i build non capisco niente io non sto capendo niente uguale perché ci fai tre cose strane quello che è si teletrasporta quello non ho capito no c'aveva un martello devo ricaricare un po' tutto e fare un attimo piccamente locale no ancora no sto guardando la seconda stagione di assassination classroom ah ok ah io sono a metà della prima finale della prima no non spoilerare eh non spoilerare si è bellina bellina assassination classroom già in realtà dico la verità non mi piace molto la trama di base però in questo caso c'è un'attività di protagonisti poi è parecchio espressivo quindi devo andare in safe safe yes boh è tommy mi serve un medico sto morendo sto muore mi sto prendendo danni solamente mangia ti questi mangia ti questi perché non so cadere dalle scogliere dalle nubi tu come che fa quello quello ti cura e quindi sub per riprenderti cosa hai fatto per guarire dalla colica come funziona niente ma un pochino cura poche che c'è gente qua mi sa dov'è? sopra cavolo sicuro un attimo comunque è difficile sparare con queste armi qua aggiornate così è cambiato cioè lo sparo è molto più realistico e non si è abituato fluido molto più fluido anche guarda che uno è sempre vivo qua e poi fanno un botto di danno a queste armi si hanno aumentato tantissimo ma l'hai ucciso l'altro? erano in due sì però ho ucciso quello col martello ok e allora in questa season qua di solito quando fanno qualcosa di buono fanno anche qualche cazzata dov'è? dove sono? quasi mi sembra che a meno fatto solo cose buone ma per adesso è iniziato ora ma tu scusa adesso abbiamo ucciso questi dov'è la roba? eh su però io mi devo curare c'è un medikit no sto cercando la roba loro per curarmi c'è un cazzo di vita ma perché mi builda sempre come vuole lui? eravamo qua su? no ma non è morto lui è sempre qua Samu dove? eh sono morto ma 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 mi riesco a buildare invece di aggrapparsi ma dai ma sei caduto di sotto? sono caduto bene bene di sotto sono alle basi sicuramente non riesco a buildare eh che palle non riesco a buildare perché è cambiato tutto vabbè i tassi sono gli stessi ma non riesco a buildare perché devi mirare in maniera più precisa ehi sono stato sono stato severo al pronto soccorso per due seringone di antidolorifico con la flebo un esame del sangue e un esame del piscio un esame del piscio ma mi resti Samu? ma che resti come faccio? ma perché te ne sei andato? scusami ma come faccio? ma non ce ne capisco il cazzo c'è l'hai detto? l'hai detto non so nemmeno più come si sa doppio salto e ti arrampichi ma dai doppio salto non esiste dal 2015 ma come no? c'è il doppio salto poi mi devo spogliare perché è un cardo ma perché spogliati non rompere il cazzo scusami poi ho bevuto tanta ma tanta acqua guarda ti vengo dietro solitudine per no scusami non solitudine qui si dice quando fai le cose anche per gli altri sai che c'ho un vuoto? dai lo faccio anch'io per non per solitudine per si cazzo si dice oh non mi viene vabbè per sub così non ti senti solo per par condicio no? no non mi viene non mi viene viva l'acqua giustamente sì ma come si dice sub bevo per te per non farti sentire solo quindi per non compassione no? eh questo è un rebus vabbè abbiamo trovato cosa fare durante la serata beviamo per vabbè hai capito sub dai stavo facendo per te quindi non eh non sentirti solo il mio cervello sta brain fartato dietro questa richiesta di sinonimo nessuno sta arrivando alla richiesta nessuno sa qual è la parola Samu tu che sei un esperto di doppiatori qual è la parola? oh niente non viene eh signora che poi prende il sushi la pizza comunque posso dirti una cosa Samu cioè a volte sembra che stacchi il cervello perché tu ci parli e lui non non capisce non capisce un cazzo eh quando c'è da lamentarsi capisce vorrei vedere vorrei ben vedere dove andiamo tavoriana fallaci dai ma te 14 Samu che 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 lecchino è una sega domani mi stai tartassando beh è tre settimane quindi devi dare i soldi ti sta tartassando mi sembra la normalità ma non ce l'hai te la poste pay paypal che non ti trovo è paypal sab dici tu se è giusto che dopo tre settimane il picchio possa tartassare Samu per chiedergli soldi dè dè ma senti come si lamenta diventa un debito di sangue ogni volta che ti devo dare soldi aumenti fino a che poi non ti devo dare la casa quale tattica picchio che tattica ti ho dato io eh quella di tassarlo finché non cede vabbè se ti deve dare soldi scusi ma io li do non è che non li do ma com'è mi è arrivato un razzo in faccia c'è il razzo ma questo mi è arrivato un meteorite in faccia e l'ho ucciso Giovanni Giovanni i tuoi colpi però picchia esattore delle tasse che ha detto questo il mio avvis grande sub io c'ho uno muoto che l'ho fatto l'ho tolto qualcosina e qualcuno mi spara nooo ma affatto ma quanto fa il pompa di danno è un po' fatta fottana a me ma perché non corre più un omino scusatemi non mi fa lo scatto che questa cosa mi sono muoto ma scusate lo scatto è è sempre così cioè non c'ho muoto l'ho messo a terra 1 2 sono cagata il giocatore del giappone a me si è buggato a parte che non ho colpi di pompa questa cosa mi sta ok c'è gente vicina mi sa si lo so è so per me cazzo buono il vito poi è in the face solamente che ora ti incendi tutto ma non mi fa non mi fa lo scatto non mi fa perché si è buggato dai non posso correre stanno ressando eh staranno anche ressando eh ma se non posso correre è un problema ragazzi ma perché non può correre non lo so non corre ma è che ti sei scollegato il tasto dello scatto non posso correre non posso correre che palle corsa ma porca miseria perché mi sei mi sei ti sei scollegato si ma se lo premo si ferma al contrario miseria e mi fa entrare in un posto per cortesia aspettate eh perché c'è un'impostazione sbarellata vai vai movimento corsa tieni premuto maiuscolo sinistro ah no ma perché mi ha messo la virgola ma che cazzo fa ho detto che si è scollegato intanto adesso arrivo scatto picchio platinato il gioco di spongebob si è sentito prima latino easy ma poi l'ho visto che hanno non va non va le cose un corso che se platini giochi ti dà dei punti ho visto non mi scolo sinistro mi sta spiegando su di rubio eh o notte il giorno un po' piove porca puttana niente ragazzi gioco senza scatto è impossibile ma perché non posso correre come faccio a giocare senza scatto speriamo partita che sto facendo la gran partita tra l'altro è iniziata è troppo semplice vincere con i tasti normali no sta macchina manco va che cosa c'ha ma cosa sta succedendo l'ho bbaggata c'è un cheater in questa partita e non ce la faccio a prendervi le schede senza correre ragazzi che palle 15 14 non so manco dov'è 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 mamma mia e l'altra in meno di 30 secondi per venire da me lo so lo so non mi mettere pressione no ti ho detto che c'ha 20 secondi ce la posso fare 19 stai zitto c'è anche qualcuno 10 ma come sei così lento potete stare zitti che devo risolvere la partita adesso con due avversari qua bravo lui l'agente c'ha sempre le cure non ci sa mai cazzo dietro senza correre come si fa senza correre da impossibile impossibile tornate un attimo alla lobby però e non lo so vai un attimo alla lobby vediamo se adesso nella risetta dai ragazzi ho fatto la mega partita questa la vincevamo riproviamo sempre così è sempre mega partita e poi alla fine è colpa mia non va che cazzo è che cazzo è questo ma che cazzo è ma chi l'ha fatto entrare buonasera nico buonasera mi sa che non è in chat di gioco probabile comunque è bravo a giocare forza vai perfetto non era in chat di gioco e allora abbiamo risolto non si è manco presentato quando è entrato con uno degli amici del picchio no scrivi lì che la prossima la può giocare non ti dici quello sa cotere più di te dovete stare zitti siete morti vi ho pure presi ma cosa andate a caccare andate a caccare vedete 1v1 su screen cheat ma lo vuoi lo vuoi far giocare o no la prossima lo faccio entrare o no ma qui sta funzionando una vediamo intanto se mi va lo scatto se no dobbiamo giocare a qualcos'altro ehi digli la prossima digli la prossima ora funziona ragazzi questa la vinciamo non perché te sei già dentro sono già dentro sono ancora schermata di caricamento allora vedi sono incartato allora piro ha cominciato il nuovo libro si piace si carino mi è stato uno dei libri che mi è piaciuto di più nella storia della vita cosa la legge è la legge cioè devi far per forza quelle se no se no è un problema ti arrestano il Kama Sutra è l'obbligo delle 100 posizioni Sabairis grande stimatore di questo libro gliel'hai detto al tuo amico che entra la prossima come si chiamava si si ma tanto che tra 10 minuti stacchi ha detto che è successo anche a lui del bug dello scatto ah ok allora devi chiamare una grande persona ok allora è simp allora va bene no mi dissocio cosa eccolo che ha detto il pic perché è che non si può dire live no è vero non si può dire non si può dire picchio no aspetta me lo so dimenticato perché non si può dire è perché è bannata la parola comunque sab le ha provate tutte e 100 da solo tra l'altro bastardo mio mamma mia oh ma stai buono teni lo sceldino martello martello è la cosa più bella di sto gioco ma oh è due ore che ma è due ore che vi tiro gli sceldini qualcuno se li fa mi trovi in totale tica mi ha la mia preferita di fortnite Samu non capisce un cazzo comunque non capisce un cazzo cioè non riesce a parlarci non ti ascolta incredibile cosa vuoi cosa vuoi ma stai zitto in modo te c'hai 8 disturbi dell'attenzione non uno si probabile se fuori di testa c'hai disturbi che gli disturbano il disturbo dell'attenzione c'è il disturbo dell'attenzione che a volte non funziona perché è disturbato e concentrazione se c'hai un ascensore e piro disturbo dell'attenzione e concentrazione sentilo sentilo sono qua giù io tirano là con questi 70 ping diversi comunque questa grafica molto The Witcher mi piace perché è proprio proprio The Witcher guarda perché è The Witcher dove sono gli infanti mutanti gli infami mutanti infanti infanti no no sono infami che non fanno funzionare lo scatto quando servono comunque attenti ci vedo a giocare The Witcher si stai scherzando open world in un mondo gigantesco in cui non capisco dove cazzo deve andare proprio come piace a me se si cacciatori di mosti però è un po' come Dark Souls il combattimento molto più bello è un po' come Dark Souls molto più bello questo cos'è ma perché mi ping mi ping while in linguotto oh no 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 prendo io sono il king degli archi se per me qui c'è uno scendone per chi lo vuole le armi che utilizzano munizioni medie hanno una certa probabilità di non consumare munizioni cosa vuol dire munizioni medie cosa vorrà dire munizioni medie che ci sono grandi piccole cioè è sei anni che giochi a Fortnite ancora non sai che c'è le munizioni diverse no io leggo leggere ah eccole medie tre tipi sono leggere medie e pesanti non è che ce n'è tante no ho detto medie sono quattro sei cinque va bene c'è anche l'esplosivo va bene però insomma le solite sono le tre so che le frecce eh sì capito qualcuno pensa alle frecce qualcuno pensi ai pinguini qui ci sono delle cose che sei un'altra roba che vola eh pinguine sono meduse volanti ma si catturano oh c'è gente da me oh 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 ho fatto una cagata forse dove sei? guarda caso c'è sempre gente da te eh da me va giù arrivo arrivo col mio arco sfumeggiante oi oi come oi nord ovest nord ovest sud est chi è che c'è il martello di Thor? ma con chi ce l'avete? non c'è nessuno picchio ma io che viaggio oh davanti a te davanti a te sto dando fuoco alla coin ah l'ho distrutto questo mi è un culo io perché c'è tutto a fuoco qua? eh ho dato fuoco io ho visto un granaio ho detto sarà meglio oh ci sparano black or white ci sparano ma dov'è? quindi ce l'ho fatto e c'è questo tappo a tutto questo non sono io ma è dietro la roccia? si si 34 è scappato a gambe elevate o forse devo dire a ruote elevate si è a ruote rotonde ma ci sono le meduse che volano? si poi si comunque l'abilitato ha messo alle stesse eh in senso qualcuno c'è scendini? io me ne darò più mi lanciamo un po' qualcuno che spara ma che cazzo è che spara? mi è messo a terra mi è strada strada sentiero sentiero ma io non li vedo incredibile boh è uno di lì è mezzo a tutto morti più ma quanti anni fa ahia quanti anni fa la mitraietta ma questa gente c'è non sto capendo niente possibile sub dacci una mano perché qua no bimbi porca puttana quindi sto nel lobby entra il tuo amico non entra che fa si si ma te tanto stacchi fra dieci minuti hai detto no che ore sono? 22 e 15 ma farò altre due tre ah allora ci sei perché non crollo adesso arriva a fare 360 ma no ma lo sai sub perché non sto scherzando è cambiato proprio la modalità di sparo di di fighting e non ci sto capendo niente ero fortissimo facevo 7-8 kg a partita prima modestamente fai entrare il tuo amico vai non lo trovo più non lo trovo più sì non lo trovo più cosa vuol dire che non lo trovi più che non c'è più non c'è più e allora giochiamo ma che cazzo ogni volta qua eccolo eccolo andiamo a pass barbaria qua oh i soldini li prendiamo subito siamo ricchi adesso possiamo comprare questo i raggi plutonici dal culo perfetto è entrato il signor com'era che si chiamava quindi che si fa ma entra non entra Samu non risponde come facciamo a picchio a gestire questa cosa non lo spieghi buttiamo fuori facciamo copie ma lo capisco vai 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 dove cosa devo fare non entra ma allora ma che ci ha fatto perdere 6 ore ma poi te stai zitto non rispondi come si fa perché ho usato un attimo il microfono ragazzi dammi un po' di pace sono stanchissimo ho capito ma noi aspettiamo dentro stai zitto devi dare i soldi al picchio non glielo hai ancora dati tre settimane tre settimane per avere una risposta tre settimane streamer boicottato dall'amico di Samuelino quel maledetto tra l'altro porca miseria sub ti mando in chat un bel clifford guarda te lo meriti clifford ma poi perché non puoi usare clifford perché cioè siccome sei l'artista non puoi usarlo hai diritti e non li vuoi dare cioè tu avresti i diritti più di tutti di usarlo invece non lo puoi usare si è capito questa cosa devi vedere se con l'account moderatore posso mandarlo questo cliffordino no sono bloccati ma perché bisogna essere ah ma perché bisogna essere sub sub cacchio come puoi non essere sub porca miseria non sei non è artista fino in fondo quindi cosa ne so io scusi sub devi farti regalare una sub per poter usare sub per usare clifford io non sono artista fino in fondo perché artisti si nasce non si diventa quindi quindi è così confermo io ho sempre fatto cacare di segnare tra l'altro c'è anche il signor Rainer in live se non erro sad va bene però se non mi ricordo male Saviris ha tre computer diversi e riesce a seguire travi e patti mi ricordavo bene devo baggare questa cosa qua niente non ce l'ho fatta dove andiamo? sulle montagne rocciose? vai andiamo non c'è nulla non serve nemmeno roccioso però vabbè è sempre tanto campagna però perlomeno hanno levato il canyon brutto un tempo quando io ero qui era tutta campagna e adesso invece ci sono le case e come diceva Celentano perché 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 la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita del guaglione perché perché ma sai picchio che oggi ho detto io ai mondiali tipo giappone e ho scoperto che è scoperto che è stato eliminato mi hanno sbagliato tre rigori su quattro come è sbagliato mi hanno dato tre rigori? no sono andati ai rigori ah poveri giapponesi ah perché loro non sono abituati a tirare i rigori non ho mai visto tirare i rigori sulle bench olle bench no loro cioè tirano solo in corsa non possono tirare da fermi quindi è impossibile che ci riuscissero peccato potevano vincere i mondiali sia che bello ma io ci speravo tantissimo anche io ci speravo che comunque sono merito il Brasile mi sa che ha ha sfondato la Corea del Nord vabbè il Brasile gli hanno anche regalato un rigore ho visto quindi troppo più forte ma che troppo più forte comunque prima con la mitraglietta io ho fatto 100 anche la mitraglietta è fortissima ma prima quelle armi non facevano così tanti danni eh ma i tempi era tutta campagna bravo ricordo anche che lo Scar lo Scar lo adoravo adesso invece non lo prendo neanche eccolo chi è? si ma non parla un attimo si esprima dica qualcosa che qua mi raccomando di comportarsi bene no è bravo è bravo mi sa fidare è come un amicino e picchia che fanno che fanno un casino incredibile amici 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 e poi ti rompono le bici aspetta mi muto un attimo ecco abbiamo insomma ti sta piacendo picchio questa season molto però non c'è non c'è gente è incredibile non c'è non si trova mai nessuno ma ci sono delle menute che volano si chi è che tossisce salute allora nico nico picchio picchio tommy tommy è il capo sono il capo io comportati bene che qua se non fa una pinaccia già prima hai fatto una brutta fila sto scherzando ecco ecco subito via eh pannato no lo puoi dire le parole puoi anche bestemmiare no vabbè però con un certo mi sono incastrato non puoi dire cose che non si possono dire bravo ma evitiamo anche di bestemmiare non c'è bisogno comunque tranquillo sei già preparato con l'audio strabassissimo che non si sente si infatti comunque non c'è nessuno è incredibile ma infatti ma c'è ma dove cavolo ti si è buttato adesso mi trovo io ma è no c'è 800 km da noi c'è sono in una fight ma dove sei ma dove sei io c'ho uno qua da me mi faccio questo io c'ho da fallabilità dove l'ho droppato il mio arco a te era uno c'è tre da me no shield Samu stammi vicino perché qua la situazione è complicata ma come stai andando nel picchio ma non c'è nessuno non c'è nessuno ma fa finta allora noi sono tutte cazzate e mi stanno inseguendo con le moto e a noi mi sto arrivando ma sono a corsa io stavolta funziona lo scatto morto come morto c'erano due persone tre persone avete fatte comunque è veramente molto migliorato graficamente ma Sam tu che ci hai giocato non ti somiglia grafica un po' a spyro come i colori, saturazioni beh sì però si è pieno c'è un botto di gente da me vuoi sei dove ce l'ha un po' sai ho fatto danno a qualcuno autunno inverno eh sì vedi a me li riguarda tanto a spyro tu l'hanno fatto bene bellino molto bellino poi tutta la mappa si innova ma come non li faccio danno ma perché lo sto prendendo in testa ma dove stai sono sempre qua sono sempre qua arrivo 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 te lo sgaino via è la season degli archi 75 fa l'arco vuoi a così poco la mitraglietta la mitraglietta è divastante no bb il bot è il cazzo non mi birda non mi birda il bot è più immortale delle armi ma no stavo buildando avete trovato ma come ma come è possibile ma con c'è vabbè ma come è possibile ma ho mai attirato due pompate due smitragliate dai no c'è un altro sì ma questo era da solo e mi ha tolto tutta la vita con un colpo di pompa madonna il build quanto fanno caccare è molto più difficile sparare è difficilissimo sparare no che torna la lobby metti pronto metti pronto ma lui non è in partita ma regola però no no torna la lobby perché nico l'aveva messo pronto un attimo che qui non funziona niente al solito ho capito no i cheaters quelli che citano sono loro sono quelli che fanno delle citazioni sì sono proprio loro comunque è un casino giocare mamma mia vediamo se con john si ciccione la vinco ma non mette le build fanno caccare le build ma no dobbiamo imparare mi imparare sono fegati ma non è fegato no diglielo diglielo bravissimo ma lo dico lo dico è ingiocabile è ingiocabile per me è ingiocabile sei il worst non è possibile che prendo sempre 70 di danno perché casco dalle strutture poi non c'ho mai meriti eh perché non li prendi invece non li stai trovando io non li sto trovando no ma si trovano si trovano si trovano si trovano si trovano la partita di prima mi ha girato i coglioni mancava sempre 20 persone c'avevo 8 kill niente non c'era cure non c'era nulla c'havo solo scudini pozzoni nulla di tanto nemmeno polli trovavo a giro sono morti non ci sono più i polli ce n'è poi ci sono ci sono anche i lufi no ci sono anche i lufi ci sono anche i lufi ci sono lufi si si c'è anche qualche cinghiale però c'è morta molti meno animali e ci sta come cosa io sto cercando di capire scusami ma la pistola fa danni no tutte le armi samu praticamente non ti fa più vedere ah che bene moltiplicato si te le somma te le somma subito eh quella è gazzo invece secondo me no la roba è utile secondo me no ti fa capire quanti danni effettivamente le hai fatto eh ma secondo me no preferivo prima che vedevi il singolo colpo quanto faceva io qui non ci sono mai stato andiamo là giù allora via comunque nico ti è mai capitato che samu dovesse darti dei soldi no oddio si eh quanto tempo ci ha messo prima di tutto siamo andati mi li spacco il cazzo ecco la vedi eh chi se vuoi male quando era stavolta siamo andati a quando siamo andati a pescare il gatto si la benzina che sarà ho detto la benzina si pescare il gatto che poi alla fine finiscono il tennico faccio bene a ricordagli ogni giorno passiamo t'ho pagato mello t'ho pagato mell'altro il tempo non ci si faceva mai perché come ti ripeterà a tutti no no è una merda è peggio madonna qui c'è dei sassi che volano vabbè qui c'è dei sassi volanti ah ma questa è la cittadina di dovuto no porca puttana ma scusa ah c'è il boss ma il tetto della cattedrale ma qualcosa non ci può non c'è ma mi sto perdendo la boss fight incredibile sto sentendo la colonna eh sono io che sto gli ho tirato le lucertole le lanterne ma perché ti shottano ma com'è possibile non c'è nulla con tutto questo aseno ma perché miseria io ho solo un po' qua aiuto mi hanno messo a terra ma dove ma ti sciolgono se porca puttana però ho sciolto anch'io oh e boss e boss qualcuno mi resti fermati nico corri no c'è qualcuno ho fatto di vita fatelo te il mio problema è che non so lui si entra e si esce ecco perfetto vieni nico 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 gira l'angolo in qualche modo aspetta occhio che c'è qualcuno build up c'è qualcuno ma adesso mi c'ho 16 era solo lui era solo lui resta mi c'ho 16 come mi urta questo questo cazzo di sono video si è fortissimo perché che programmer perché c'era le stassi volanti il palio di siena questa musica il palio di siena il palio di siena io sento dei passi non so da dove ma sento dei passi la fiera del medioevo la fiera del medioevo mi sa mi sa che c'è il boss davvero no e c'è il boss mi hanno risciolto ma che palle c'era uno mi stavo curando ah pro gamer credevo il programmer ho capito un cazzo ma la gente non muore è bianchissimo comunque ah sono proprio morto ok andiamo nico come se la camera e il boss non ci vede non ci vede che salto incredibile che ha fatto il picco grazie sub grazie mille per essere passato e per la compagnia e mi raccomando riprenditi poi fammi sapere come stai qualcuno mi resti qualcuno mi resti andiamo al furgone furgone si resta facciamo prima a destra di sotto c'è una è dentro per la salì pinga pinga eravì dentro ma lo so in che casa ma c'è munizione ma come io vorrei una mitraglietta è una cassa buona ragazzi se andate in tre ci mettete quattro secondi a restarmi si e qualcuno tenete i cosi effetto ho perso altri dieci di vita insomma se vuoi questo lo prendi ah ok sti cassa di thank you thank you finalmente hanno capito che fare almi realisti che è molto più divertente che fare almi a cazzo le cose le cure a bomba le splash è divertente ma è stranissimo è un casino assurdo no no non me l'ha fatto parkour messo comunque è bella anche la cittadella nonostante non si scopisca un cazzo che c'è un cazzo lotto in quel posto ma in generale in generale non c'è tanto lotto a giro e mi sembra c'è però a parte la stessa qui e voglio scendere giù no è vero c'è tantissimo lotto poi se però ci siamo molte meno armi se non le vittalette per distruttare se ne sono tante bianche e pete un po' che l'u e il viola si è vero io voglio ho trovato il pompa oro sono curioso c'è che da questo punto di vista meglio così no no quello si prima si trovava un botto di roba oro a parte che lo fanno verso fine season tutte le volte quindi è tipico di loro sparano io sono qua il bot il boss c'è ancora il boss vivo cazzo la che no ha ripartita ma ma cosa mi è arrivato addosso che ho perso tutta la vita sparano anche da un'altra parte è arrivato al coseno da parte io c'ho uno scendino no c'ho due scendoni non ti preoccupare poi mi fa queste bende poi ciò c'entra me arriviamo l'arco mi cazzo no perché ho inculato ve lo fare lì che me lo volevo fare però vabbè è un casino vuoi qualcuno non ho fatto uno poi ha fatto tutto ci avevo però era da una terra rimane a scappare in safe c'è uno qua c'è proprio il proiettile non è drittissimo eh no non si capisce comunque ha migliorato un sacco anche la grafica dell'acqua sì ma è arrivato un colpore a qualche parte cosa questo va ah questa questa spada via bisogna ma spada c'è sì cioè la spada è è è è una specie di pompa cioè usare le armi del pompa che poi esplode dopo ma io non ho capito se i power up sono si accumulano sì siamo in partita sì sì che si accumulano però c'è un tot di mi do perché non c'è non te ne fa vedere non te ne fa vedere in nessun punto quelli che hai a tirare oppure no qui c'è un barilozzolone se qualcuno lo vuole prendere io oppure tiralo subito così ci fulgiamo no dai io ho tre scendini non ho munizioni però ma sbaglio da meno materiali anche di meno sì da tutto meno sì no ci sono i materiali prima quando facevi due alberi ti potevi costruire il paese questo è vero ora invece devi buttare giù una marea molto ecologico eh eh mi sparano mamma mia ma è un po' altri merda ma da dove è da dietro comunque quell'arma che dite voi quella che poi esplode è l'unica che cade verso il basso mi sembra cioè che c'è il vero moto del proiettile questa è una io ho più il buon moto no è figo devi calcolarlo io vorrei ma munizioni che non ho il martello mi ha rotto il calcio non basta queste merusine se c'è salti ti fanno che munizioni usa cosa? eh la pompa munizioni del pompa caliper la set non è lontanissimo c'è anche la chiave anche io una ti parlo ah si te le fa vedere che sono cumulabili riprova gratis ah voglia tutta la vita mio figlio il lancerà qua c'è un arco meccanico si voleva dei colpi per tenerli voi semmai fa bene ridate vi sono preso il lancerà ok mi ho lasciato con la spada allora riuscivo a correre attraverso l'albero c'è qualche bug comunque ancora si un po' cioè toccavo delle foglie non potevo correre ehi cazzo da me 41 42 oi 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 vabbè eh cazzo da me oeeh che cazzo di mira a questo adesso 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 pingate da me proprio da me no mi sono in casa da forza no comunque ti squagliano poi a un botto e si ti vanno due volte mi sono da me e non si capisce un cazzo comunque incredibile ma qui siamo sotto attacco di brutto io ho fatto uno e poi no però gli alberi che ti cibaghi non è possibile che odio cioè tocchi le foglie non puoi camminare dai fanno veramente sciogli cresco un cazzo io no si fanno troppo da troppi danni io non lo vedo nemmeno laggiù cioè ti ha colpito due volte ti ha colpito due volte sei morto faccia vedere un cazzo faccia vedere un it's very too difficult secondo me fanno troppi danni le armi io faccio l'ultima si 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 nico 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 mi senti si hai instagram si segui frones subito scritto piacca eh per forza per forza come scusa cerca p h p h r vai seguilo bravo bravo no che è successo perché grazie per il follow nico grazie mille abbiamo aperto sam sam ha deficit dell'attenzione vai vai è stato bello no il sam comunque è fuori di testa io non so che cosa stia facendo ultimamente assume qualche tipo di droga sam non ho idea è così è irriconoscibile ma è partita come è in partita no si è in partita si andiamo qui in mezzo al casino va vai ma perché non dovrebbe essere in partita ha detto no e poi è sperito ah ah dite che ha crashato e infatti è sempre sul mongolfiera lì sulla mongolfiera c'è a me laga laga pure poi ho vuoto mi tira delle strinate incredibile ma guarda la mi si incastra ovunque non è tanto la gente quanto il fatto tanto hanno fatto compa porta troia è distrutto arrivo ma come non lo prendo 1 metta terra 1 cerco di arrivare sono senza pompa allora aiuto 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 ma no dai un colpo di pompa e muori non è possibile ma guarda quanto danno fa non è possibile mamma mia non è possibile con due colpi a me con un colpo mi ha messo giù se non è andato alletto è andata via è andata via la luce vabbè stacco è stato bello che siamo riusciti a sentire il no prima che sta cassevo eh no infatti sono tornato alla lobby sì torniamo alla lobby si mette il tizzetto che cazzo ho comprato il carico per l'iPhone è tipo 30 cm non riesco a fare un cazzo mi tocca il zamparo tanto in realtà li fanno tutti così sì sono tutti cortissimi non riesco potrebbero usarlo metti il suo letto e sono accanto al letto c'è la presa no no anch'io io ho dovuto comprare quelli non ufficiali che sono lunghi 3 metri tipo questo è boh 20 cm io ce l'ho praticamente tipo da 2-3 metri tutti arrotolati e li ho fatti un metro e venti quindi comunque devono bilanciare un po perché è sbilanciatissimo no è troppo stealth diventa se no no ma in falce a questo punto non servono a niente le build per davvero perché questo punto diventa un gioco di strategia se ti nascondi eh no ma è appunto non serve a niente la build perché come come sparano due colpi alla build e te la buttano giù poi c'è quel pompa lì quello diciamo più lento questo qui che ci ha fatto fuori ora si fa un botto di danno quello del tuono fa a me una pompata sono ho visto mi hanno fatto fuori io l'ho pushato io l'ho pushato gli stavo sparando e lui manco mi ha visto si è girato un colpo e si muore io ho paura che quando arriveranno le armi in viola leggendaria quelle prima l'avevo trovato quello di oro e se è morti prima vabbè comunque scendiamo scendiamo subito così si fight se no non c'è nessuno incredibile il problema è che non c'è nessuno o c'è troppo gente eh lo so però se c'è se c'è gente per me è divertente andiamo lì dove abbiamo pingato o a questa casa isolata andiamo a casa isolata vai vai e quel minimo ci sarà un po' di gente eh sì però se ce nemmo tutti e tre magari mi scendo qua bravi si è già sceso nico vai c'ho la mitaglietta eh ma non si trova niente io sto trovando solo munizione c'ho la mitaglietta bianca io non ho armi eh ma ma due mitagliette bianche se c'è qualcosa aspetta fermati c'è anche gente poi c'è questa bibita nuova che non si capisce che faccio sai che è salito ti dà 15 di vita o scudo più energia per correre più da fuoco e anche io mi faccio dei funghi dai quindi non sprechi energia per correre bella ok buona allora comunque ma ci sta come no no se si non me ne era accorto perché non è fuori ma ti dà quelle cose in più no è carino ci sta ci sta sta un botte e non ti sbilancia troppo come cura io ho solo l'arco che me la tonico e l'assalto quello strano non c'ho altro poi c'era una pistolina sul piede vabbè ma gradirei un pompa non c'è non c'è niente non si trova niente io ho trovato un medicaid vabbè america splash ce n'ho anch'io ma c'ho l'assalto quello occhi rossi le splash e chi lo stocca? c'è io tieni io mi sto avvicinando al boitello eh no sono full io mamma mia mi taglietta leggendaria è il picchio che è il picchio che mi è fu c'era i funghetti c'era arrivo sto facendo due cocchi ma no faccio anche lo shieldone quindi basterebbe ma e quindi c'era a cazzo nessuno si prova a andare qua distese ci dovrebbe essere qualcuno dobbiamo andare lì io ho 3 shieldini e 12 bottigliette di quella roba no boia c'ho fatto splash casa leggendaria bazooka stanno sparando? si aria ho una mitraglietta magari dove stanno sparando? non lo so ma io ho da fuoco la quindi in dubbio ma sono tipo pannelli suari quelli? dove sono sopra? non lo so io sono le fuoco a tutte è dubbio mi tiro anche delle 3 granate c'è anche no mi hanno sfatto non so dove ho visto non so vabbè è incredibile boia spero se riesci boh si ce la fai spero se riesci qua si mi sa che c'era solo lui grazie c'è uno scudone e qui c'è shieldini ok 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 arrivo 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 si rifarò in breve tempo guarda già te? no no sparo ai bot insomma coi troni che troppano roba cos'è cosa? eh no questo osso vi per aria ma no no sono droni guarda gli animando uno è improvabile eh? eh si aspetta vado a fargliere la scudone e arrivo eh sarebbe il bari rossi un po' che spravo no ho preso te e mi sono anche dato fuoco è uscito dietro eh vorrei colpire quello che vola qua ne ha restati due arrivo un po' di volte sbaglio uno sì una volta sì dov'è che sono andati? eh in qua qualcuno ve lo vedo da giù qualcuno ve lo vedo da giù i miei quelli sono persi quasi uno fuoco a te io c'è qualcuno davanti a me servono prece? no se ce l'hai te ce l'ho io ce ne ho otto non penso mai dovuto le torce una maia 34 buttate giù buttate giù è corso verso destra sta saltando via non so come ma dov'è? ecco qua giù un po' è qua giù qua c'è una metaglietta blu eh uno vale che pompa c'è sia pompa che pozzone qua dov'è che sono dietro la cosa? è scappato comunque non sono male le bottigliette perché per inseguire la gente te le bevi e corri come un dannato non ho più archi però ce l'ho io ce l'ho io tra le due ok ho solo quattro colpi no marea ok i power up li metto un po' a caso si si anche io ci vorremmo meno altre due settimane prima di impararli e questi come si sono volatilizzati e no è una cosa incredibile troppa minico 2 frecce chris grazie li li vuoi questi no vabbè saranno lì dentro questi però tanto ritrova il pic non aver paura che lui è bravissimo andato dove vado io mi pusciano quindi ma poi anche poi non mi sblocca le parti della mappa sì alcune mappe alcune volte diventa il punto esatto che ti vuole se no non sblocchi nulla c'è una gara c'è altre splash va se ve le volete davanti io sono già full di splash qui c'è un altro arco primordiale eh io non c'ho le bottigliette beviti una bottiglietta ce l'ho già quasi quasi bevetevi la bottiglietta che così potete correre quella raffia diciamo ah c'ho già quell'altro quello strano quello del tuono se volete dare una splash che c'ho già sono lì sono dietro di te no no ho trovato un assalto recente qui c'ho già qua vai venga fai la splash no comunque ne da troppo meno di materiale se vedete qualche assalto anche bianco ho trovato bianco eh mi spara no qui dietro al me qua giù 79 con l'arco via 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 non era possibile mi hanno sfatto ma di tutto ma di tutto ma che cosa fanno essi questi precisi cioè ma c'hanno lane bot ma come fa a essere qui dietro di me scusami ma no ragazzi ma era sopra in mezzo seconda ma hai capito in modo di giocare ma hai capito completamente morto Ma andiamo, facciamone una senza build Ma secondo me senza build è ancora peggio Ma intanto non servono a niente mi sembra Vabbè ma lasciale Vabbè continuiamo così Ma comunque ti sciolgono E' una cosa impressionante E le armi mi sembrano anche più sprecise Quindi boh Infatti e boh Vabbè Doveva andare così Se non è per ammirà L'unica soluzione O hanno migliorato l'hame bot Che quando ti entra il primo colpo Ti fanno entrare anche il secondo e il terzo per forza E quindi l'ha buttato giù Eh mi sembra strano Perché l'arma che fa 40 Se ne butti di 3 E ti fa 120 Mi sembra molto strano Sì c'è da capire Che ancora Vabbè guaita in gruppo Guarda fa un controllino Gruppo telegram Ma per vedere Controllo Se dicano qualcosa No Apro da tre giorni Quindi sera al mondo Forte light Le meduse e quelle volanti si possono catturate Catturare E come Boh Io ho visto che se ci salta addosso Ti spingono E probabilmente tirano un po' di Di Scudo Allora Dell'8 dicembre ci sarà la schiena di Hulk Già Noi andiamo? Sono l'ultima Sì scendiamo subito Così c'è più genere Vai vai E sto bene Poi c'ho un caldo Cosa Che sport fai? Ah figo Dove lo fai scusami Io vado qui nel granaio Che c'è gente C'è gente Pino Sì lo so Dai non mi ha venuto il zucco Non ci posso credere Eh 18 mi ha fatto Così No vabbè dai Cioè io non ho fatto No Mi ha tolto tutta la vita Con un colpo ero rimasto con 5 tipo Vado Allora Situazione È molto È molto complicata la situazione Sì non si trova niente Beh c'è il lancerà Zico Sono praticamente un metro Uno dall'altro Ma Arco oro? Cos'è? Femmeggiante? No puzzolante No c'è un po' di problemi comunque Bello Che lancio ha fatto con la granata? Eh vabbè Sì Ma guarda che questo l'avevi preso con il Buonasera Simo Buonasera Steve Come state? Non mi fa un'altra perché mi fai il cazzo Ma guarda che questo Gli avevi fatto 105 con lanciarazzi E lui ti ha fatto più danni col pompa Cioè scusami L'ho primo in testa col pompa Ma l'ha fatto 70 volte Il primo colpo di pompa addosso Ma l'ha levato 80 Cioè Ma io Non ho parole Come state ragazzi? Come state? Poi qui c'è stato il retta Che non si capisce cosa succede Quando la Ti dà due o tre armi Però Tutto bene Tutto bene ragazzi Avete provato un'uova season? Interessante Sbilanciatissima però Cioè Diciamo che ha delle buone Come dire Buone premesse però È da sistemare perché Non è possibile Come ti si è fulminato il pc Steve? Non ci credo Come hai fatto? È tutto rotto? Non è recuperabile niente? Ti dispiace comunque Sì che non saluti Steve E Simo Ciao Steve Non ti ricordi che Steve? No è la tua presa Sì 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 Ah ok Bravo Steve Dove andiamo? Dove volete andare? Andiamo di qua va Vedi che appena parte la La cosa Cadono due barili Sì è vero Sono curioso di sapere Se vanno da qualche parte Sulla mappa Secondo me sì Se vanno da seguirli È solo che Scendiamo più veloci di loro Infatti non li vedo più Ah è la seconda volta Cavolo E butti via tutto tutto? O qualcosa ti si salva? Sulla delle ase Comunque a me Lo stile così medievale Mi piace un sa Eh ci sta Ma Piro Sono io che lo sento male No lo sento anche io Lo sento molto basso anche io Io sento basso Piro E lui Sicuramente sempre Perché dici che c'è il microfono attaccato Ma anche io lo sento molto basso Col pompa? Sì Comunque Comunque Non lo so Comunque secondo me Va a zone Perché qui sto trovando soltanto assalti Non trovo pompa Ma ti sei rotto il portatile O hai anche un portatile? Comunque hai bruciato la scheda madre Cavolo L'hai fuso E' accenuto il supporto monitor I piedini Mi si è rotto anche lo schermo Cioè l'hai tirato Gli hai dato fuoco Che cosa hai fatto? Oh ma mori Beh Che siete? Buona mano Onico No no Mi sto facendo La cattura La cattura La cattura La cattura La cattura Tutto da solo Ah è un portatile Ok Ok Ma era vecchiotto O era nuovo? So io Ah è patito Oh ma c'è uno qua a terra Dove? Non avrei la avevi messa a terra Per prima Ma là c'è nessuno Dove? Da quell'arte Da quel piccolo Io non penso Quelli ho trovato io Sando più a terra Quindi prendo questo Questo Non so Non si capisce niente Asus Rogue è uscito un anno fa Cavolo Tu sei che la hai anche paghicchiato Sapendo Da veramente poco Ce lo perdo Arrivo Arrivo Sparano anche a me Ovviamente si è buggato qua Dove sono? Fatti due Mi sparano Mi sa che c'è Il terzo Forse C'era uno che lì è Questa la casa Aspetta quattro È sceso Ma non mi raccoglio i materiali Ma che cazzo fa Sparano da altre parti Ma che cazzo Vengo da voi perché mi stanno sparando a per tutto Io ho fatto i tre Io lo stavo arrivando uno Perché mi sa Se mi continuo a seguire Sto arrivando A me non mi raccoglie le cose da terra Ma cosa dobbiamo fare C'è che mi spara così A fase Ma c'è uno Dov'è perché dov'è Non lo vedo Qua sotto Qua sotto Qua sotto Non lo vedo Ah Phil Ok Porca miseria Si sta sparando un altro Dall'altra parte Si Io no Ho distrutto i due con l'arco Non so se non ho più colpito Quello è one shot laggiù Solo che c'è l'albero Non vedo niente Eh si Anche troppo Per la qualità Non è possibile Una volta è successo Che spengo 5 minuti Dopo l'accendere Non si accende Lo metà posto La seconda volta La giuna Non accende Non si accende Ma Purtroppo Non me ne intendo Di Di queste cose qua Però insomma Mi dispiace Che tu abbia Copito il rotto Ma quello Cinghiale C'era Senti già anche lì Ah Una verità Dici qua su Dove sto io Era No Quello che stavate sparando Prima Eh stavo sparando a uno L'ho praticamente fatto One shot Ma è scappato L'ho evitato anche io Con qualcosa L'evo fatto a 75 Con l'arco Se lo perdi Si fa parecchia Molto figo Come è così Come fate ad utilizzare Quel cosa azzurro Io non so come funziona Da play Come fate ragazzi Da play A attivare I poteri Di picciare Il tasto destro Ah la La freccetta Destra Si Io giocando La pc Nello schermo Giocando la pc Io premo altri tasti Quindi Simo È diverso Di cosa Di questi martelli No ce l'ho già uno Si è pieno Mi sono innamorato Di quest'arco Ho ucciso Sei personale Dunque dovremmo Andare in safe Qua c'è una moto Parano Si diventano On the d'urto Mi sarei bloccato Gioco Ah ok Ottimo Ottimo Sì Ultimamente stavo Giocando un botto A GTA All play Non l'ho mai fatto Sì Ho giocato a GTA E neanche più di tanto Roll play Però mai Di niente Simo Figurati Comunque sì Ti dovrebbe comparire Sì Sfondare a due Ti dovrebbe comparire Proprio sullo schermo Per dirti il tasto Vai monta Vai Anche nell'acqua Con la moto Cosa è bellissimo Ah GTA Roll play Te ne hai mai fatto Unico GTA Roll play No Neanche io Sparano Sì sono laggiù 50 questo qua Comunque l'hai sciolto Con la Sì Dove essere le arti Mi manca uno Vuole mancare uno Sì c'ha dei problemi Comunque Devono sistemare Comunque la cosa che ti dice Che le armi di munizioni Medi Ah ma le munizioni Sono i fucili Normali Sono assalti C'è uno qua da me Dove sei? Adesso vi leggo Ragazzi Un attimo C'è uno lì E dietro C'è l'altro Ehi Ma non lo vedo Sono lontanissimi Sì sembrava che mi sembrava più vicini Mi sparano Da dove si sparano? No era quelli là Ce n'è uno Non li vedo Non li vedo Ha visto 17 35 C'è uno lì C'era uno qua Non c'è nessuno qua Ah Giuro Sì comunque Mi sta hitboxando L'albero Dal niente Buonasera Eileen Come stai? Cosa dico dal nulla? Mi sa che devo settarlo Perché uso comandi personalizzati Infatti non mi compare Eh guarda A me mi si era vagato Alla scuola corsa Prima Non riuscivo a correre Perché mi era cambiato Il tasso in automatico Non so perché Cavolo Non ho più munizioni Comunque da Assalto Si vede che non è settato Questo i giti invio Va bene Steve Ma fai come vuoi Non c'è problema Va bene Lì Grazie mille Sono sempre bellissimo Sai E se vuoi posso usare La mia voce migliore Poi ci sentiamo Eileen Guarda a me Eliminato Buonanottina anche a te Quanto Quanto Grazie mille Per il saluto veloce Ci sentiamo tanto Ragazzi Non ho munizioni Assalto Solo 28 colpi Mi hanno anche sparato Cinghiale Che cazzo fai Buonanotte Steve Vai letto pure tu Va eliminato Comunque le meduse Ti curano anche Se ci curano Ragazzi Capisco se c'è gente Buonanotte ragazzi Buonanotte a tutte e due Grazie mille per essere Passati a salutare Fate un sacco piacere Intanto Se siete su tele Grazie Ci sentiamo Lì Ah no Stavo andando a dormire Stavo andando a dormire Eileen Steve Dove sono ragazzi Non li vedo No c'è la zia Eh prendi Sì comunque c'è la La in botta Se spari una volta E spari subito di fila Ti tenete in altri due Lascia Va eliminato Qui c'è sguazzette Se qualcuno se le vuole fare Comunque c'è parecchi bug Perché non raccatta neanche le cose da terra Non le raccoglie Ah è sbagliato a scrivere Eh ti mancavano sì le live Era tanto che non ci si vedeva Madonna santa Madonna c'è un botto di gente C'è anche io accanto Ehi anche la save Cazzo ma so su C'è l'acqua Ma dov'è? Dov'è? Ma no Ma dai Ma com'è possibile? Ma non può toglierti 180 addosso Il pompa dai Sì mi si è sbagliato a scrivere Come vecchi tempi Ce l'ha fatto a prendermi la scheda? No lo so No Bene No il pompa Il pompa devono toglierlo Eh mi sa di nuovo C'è uno? Sì sta mutando Mentre non si vede nulla Cazzo Cazzo E lui invece ti ha sciolto Sono due Eh va bene E che è questo? Non ricordo sì mister peto Steve C'era ieri Ieri era in live da me O ieri l'altro Non mi ricordo Ultima live erano insieme Sabato Quella madonna Ehi No domenico No era sabato Era due giorni fa quindi Ecco io poi il fucile Lì ancora non l'ho preparato Quale? Mi c'ha ammazzato lui Che cos'era? È tipo sembra mezzo silenziato Ma è un pompa Non è fatto caso Buona io Stacchi? Dai facciamo l'ultima dai Vabbè Premi su pronto Noi facciamo l'ultima Grazie Dico grazie mille Per la compagnia Non mi fa annullare la poiettita Eh Mi ti esce in qualche modo L'ho salutato Ceri per 5 minuti Comunque come sta? Io Come sta io? Come sto io? Come sta nel senso che mi dai del lei? Sì Mi sta dando del lei O intendi come sta mister peto? Io sto bene comunque Mister peto anche L'ho salutato Quindi l'hai visto? Sì 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 È vero Sei passato Sei passato l'altro giorno È vero È vero È vero Butto fuori Nico Che tanto Non c'è Teppi che sei pronto? Aspetta Mister peto sta bene che mister peto si libera Solite cose Ragazzo tranquillo Sì ci sono Oh picchio Non pensavo che c'eri Come stai chiede Steve Oh ciao Tutto bene dai Quanto era che non veniva Steve? Una vita Ma certo Quanto era che non andavi la vita era Era tantissimo Ma ci togliono a prestati Ti ricordi l'anno scorso Che mi ricevi del regalo Del regalo Del regalo Cosa ti regalarono Che non me lo ricordo Che volevi prendere il cane Volevi le scarpe da calcetto Volevi fare la partita di calcetto Poi volevi il computer La playstation Non mi ricordo Alla fine che ti regalarono La tastiera volevi Il mouse Non te lo ricordi neanche tu Ma andiamo bene Vabbè Vabbè E a scuola come va? Comunque direi picchio Undici e mezzo Stacchiamo Sì 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 Cioè l'ultima L'ultima o comunque Due se una è breve Insomma Ah il mouse e il joystick Che giochi E' andata bene insomma Oh ma guarda come il parkour Figo Esca qualche altra cosa Sul set Ricordami che classe sei adesso Dunque bravo Che studi Bravissimo Cazzo medio Ok E Simo non mi ricordi Il tuo fratello Sbaglio Memoria brevissima io Sì ve lo sai Dove vuoi andare picchio? Ah andiamo qua Subito? Sì sì Peralmeno si trova gente Ok Sì che mi ricordavo bene Sì 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 Lui è più grande però Ok No che è laureato in informatica io Ma figurati Sono laureato in informatica Il picchio è laureato in informatica No non è vero Nessuno dei due è laureato No nessuno dei due è laureato Io Steve Se vuoi vedere cosa faccio adesso di lavoro Vai su Instagram e cerca Frones Scritto P-H-R-O-N Cioè P-H-Rones Praticamente Faccio i video con i miei amici Abbiamo aperto una casa di Produzione video E Facciamo quello Quindi produciamo video E pubblicità C'è qualcuno C'è gente? Sì e io non ho armi Ho solo le lucette Vai me si attende Bravo L'ho fatto Già mi segui Allora lo sai che cosa faccio C'è uno da me Mamma mia che kill che ho fatto Ficchio Con le Gli ho tirato tre lanterne in faccia Ma no 40 40 40 C'è qualcun altro Ma che cos'è? Siamo in una giungla Cazzo Io c'ho l'arco ma qui è il delirio Allora ho trovato un pompa Dai dai Uno l'ho guettato Uno l'ho guettato Uno mi stava Spompazzando da qua Sono qui Sono qui Ma quante gente c'è Mamma mia In mezzo alle fiamme In mezzo al fuoco Quante gente c'è ancora? No no stavi uccidendo quelli a terra? Sì E c'è qualcun altro Sì sicuramente Faccio una benda Oh 4 kill Finalmente stiamo cominciando a giocare Hai frecce per caso? No Ok Cosa c'è di viola? Fuscine Comunque non è affatto male sta cosa che Ti fa Ah non ce l'hai mai te all'onda adulto? No Cosa volevi fare? Ah lo devo raccogliere No non ce l'ho C'è uno laggiù Fatto Fatto? Sì E' morto subito Sta cosa che ti fa stare con la stamina infinita Non è male Steve ti piace sta season? Si è fiammeggiante Ce l'ho già Vediamo un po' sti robot tazzi che cosa danno Siete che sta facendo casino? Si sto spaccando i robot tazzi volanti I droni Io sto cercando di pescare qualcosa Scari Eh si Eh sono fortissimo Stil Perché non mi ha Ah erano due Ok Eh ti pareva quello lasciasse da sopra Sto migliorato Steve rispetto ai primi tempi che giocavo Senza dubbio C'è un bot Ah ma questa zona sai qual era picchio? Eh Come edifici Non mi ricordo come si chiamava Fattoria Eh fattoria Bravo Segno della tempesta Quando la tempesta cambia Esegue una scansione dell'aria Per individuare Uh Quando cambia la tempesta posso Individuare gente? Che male Oh c'è un po' di roba? Eh sono migliorato abbastanza Steve Però è una situa nuova quindi È un casino Perché ha cambiato il sistema di shooting Ha cambiato tantissime cose Prima Ultimamente chiudevo le partite con 7-8 kill Anche se non vincevo però Ho già preso sulla taglia Ok Allora Qua c'è un po' di roba Se lo vuoi Trovate a scioccare qualcosa ma Anche di buono No Grazie Allora io ho preso l'abilità di poter fare una scansione quando cambia la tempesta ma non so come si fa E praticamente ti snitcha la gente intorno Buonasera Roberto Come stai? Come stai? Sì adesso ne ho 5 quindi Ma è la prima partita che ne faccio 5 eh Steve Anche prima abbiamo giocato E non sono riuscito Venti a bere un succhino Vabbè c'ho i cinghiali Eh però è buono perché corri come un pazzo Tutto bene Uh Mitra detta oro Non male Tutto bene Robby Grazie 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 Buona Buonasera da Steve Steve ti presento Roberto Roberto ti presento Steve Ti piace questa season Robby? Hai detto che giochi a Fortnite no? Io sto bene comunque tu? Non mi ricordo mai se faccio le domande due volte Vabbè è meglio 2 che 0 Sì però senza dubbio C'è gente? Non la vedo ma c'è Ho sentito granate che esplodevano L'evento io me lo sono perso Occhio Da dove? Porca miseria Sì al di là del ponte Sì al di là del ponte Mamma mia Dov'è? Eh di là del ponte Dai Non posso sparare da lì Non volevo per questo Lo vedo Dai non mi è entrato un colpo Questa terra ma mi è arrivato un mega razzo Ok praticamente me lo snitcherò solo quando cambia la tempesta Aspettate ragazzi adesso li ascolto Quanti erano? Due forse Non sto visto a capire Forse uno Occhio Un cacchio è? È sotto Buttate Buttate Tutti tanto Ma era uno o era due? Uno Uno Queste due ora Ok potenti potrebbero far distruggere tutto Ma non capisco da che cacchio mi arrivano i colpi Sape tutto C'è un eco di uno Ho visto No non ha sparato l'altro colpo Mamma mia va bravo bravo babo Guarda si trovate cura perché non ce la fai da su Così senza cura Non lo so Non 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 so Dove sta andando Di Dove sta andando Di Di come andando qua Se ce la fai Sennò Si va in safe Devo scappare da questo perché non lo cure La metralietta comunque devastante Sì C'è gente anche qua Cazzo C'è gente E' fatta Ma niente C'è fai Deve andare a piazza in culo Piazza in culo Devo andare Sono materiali La miseria Un po' C'è l'aria Pichissima roba E' frame laga tantissimo sta roba qua devono sistemare un po' di cose Adesso Adesso rileggo Non ce la faccio Non ce la faccio Un po' di danni Non so Se vi conviene Eh no L'evento L'evento non l'ho proprio visto Ma senti Ti resto Perché Ecco la lenta Vai veloce Sì teoricamente C'errebbe togliere uno Massimo due Sì togli uno va bene Ora poi mi togli due appena si ferma Deve subito in safe Cos'è successo nell'evento? Ditemelo un po' Non l'ho proprio visto Hai raccontato un po' Che noi si è preso Ce lo siamo perso Però mi sta piacendo sta season Ma deve essere sistemata Perché c'ha troppi problemi Il pompa fa veramente troppi danni Cacchio c'è uno qua Ok Hai messo a terra? Sì Cazzo Sbira no E ti pareva che saltava giù Dal coso qua? Ok Faccio un medicate Devono aggiustare la stabilità Niente Dovevi raccogliere cose Per aggiustare la stabilità Facendo missioni noiosissime Sì Ultimamente gli eventi Non è che sono stati Granché eh Gli ultimi che ho visto E poi non raccoglie le cose Non raccoglie le cose Sì l'ho visto Ok Senza shield Hai fatto? Sì fatto Messo a terra Da me da me da me Arrivo Se si espone lo prendo Eccolo Ho fatto un pochino di danni Arrivo eh Prendo Dovevo prendere gli shield Ma non ci sono Vabbè Resisti resisti Che sto nuotando Verso di te Ma è sempre qui da te? Sì sì No è fatto Lo scar L'evento è stato fatto Tipo a settembre In che senso? E con la creativa È stato fatto a settembre Per fare sta cacata Vabbè Cioè l'hanno creato In creativa? Non lo sto capendo Porca miseria Qui c'è Munizioni come si è messo? Si è messo bene? Male Cosa ti serve? Andiamo in safe Ti do qualcosa subito Cosa ti serve? Assalto? Eh no la safe La safe Vieni safe Vieni safe Ci rinchiudiamo in una casa Con la creativa 2.0 Qua si sente Rianneggiare il .5 Sai che in realtà Non me ne intendo Robin Quindi Potrebbe essere Qualsiasi cosa Cavolo Qui da me Dov'è? Una terra L'altro è sotto E' one shot Troie Facciamoci E poi te li mollo C'è qualcun altro Che va Verso in cima Occhio Ragazzi C'ha qualche Colpi di assalto anche Si un attimo E poi ci metto Dove riuscire Dal menu Ho fatto un totale Di 101 C'ho qualcuno sotto Quanti siamo? No Mi sono tanti Sto sentendo Nessuno Si C'ha qualcuno Ho eliminato uno Non so come Però l'ho fatta C'ho qualcuno Che sento Camminare intorno Si No Che rianneggiare Quello dove si fanno Maggiore parte Di videogiochi Lo so Però Non lo saprei Riconoscere Ecco Cavolo Safe Merda Merda Mi sono incastrato No era muoio Con la safe Non me lo merito Non me lo merito No c'è un modico La safe Che io Non ce la faccio Da solo Ha buildato proprio In quel momento Ma sono il fiume io Si è il motore Porca mi stavo grattando E sono morto Stavo grattando porca miseria Mi ha preso da dietro No non ti grattavo Non ti grattavo Non ti grattavo Cos'è successo? Succede che ci hanno I pochi Facciamo nel panino Adotteniamoci Occhio L'ho intuito Sto bottazzo qui Non mi da cure Non mi da niente No La safe Anche qua Siamo senza cure Si la grafica è migliorata E' molto bella Si sente Ma anche il sistema Di shooting Ha cambiato completamente Roberto Infatti E' più complicato Cure Non hai nulla No C'è qualcuno da me Però C'è qualcuno da te Dove è? No Ti mi ha fatto così Ha volato Non so Ma da dove cazzo è uscito Che era sotto tre secondi fa? Ha volato Non lo so Non è possibile Mi sono affacciato giù Per vederlo Era dietro di noi Non è possibile Basta Si è una bella Ma bisogna capirla Basta Volevo fare l'ultimo No Basta 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 Volevo si può cambiare Dalle impostazioni Lo shooting Veramente? Vado a controllare Roberto Massimo Esperto Dai 11 kill Ho fatto 11 kill Non mi sono accorto Ho giocato bene Non ho giocato male Sicuramente Però non ho fatto caso Impostazioni Dove è? Dove è? Dove è? Dove si cambia Roberto Un ingranaggio Un ingranaggio Un ingranaggio Sicuro? Ripley Ozione di gioco Costruzione Combattimento Ma non lo vedo Non lo trovo Comunque anche tu Roberto Guarda ti invito Nel gruppo Telegram Se funziona sempre il link Non lo so Così magari Puoi spiegare anche là Vabbè allora niente Se ti vai entra nel gruppo Nel gruppo Telegram Così poi magari me lo scrivi là E ti invito anche Che a seguire questa pagina Dove io faccio Matteo ho già detto ieri live Se non mi ricordo La pagina si chiama Così su Instagram E faccio i video Mister Pride Mi ha sponsorizzato spesso Su questa cosa qua Faccio video comici Grazie per essere entrato Nel canale Telegram E facciamo video Casa di videoproduzione Sul territorio nostro Livorno Toscana Conosce anche Mister Pride E niente Quindi facciamo questi video Che dovrebbero essere divertenti Spero lo sia Per stasera direi Che abbiamo fatto Più che abbiamo dato Che dici Sì 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 Vediamo un po' Direi che si è fatto abbastanza Cosa riesco a sbloccare Però 11 kg alla fine E non sono contento Ah è male No Cos'altro Per come eravamo partiti Più che altro Sblocchiamo Ste cosette qua E via I memini I memini Sono I memini Imparo l'olto Va bene ragazzi Io Ringrazio il picchio Per la compagnia Poi ci sono stati Che Sam E Passato anche Nico E poi ringrazio anche voi Che ci avete seguito E siete arrivati anche Se è un po' tardi Perché adesso stacchiamo Però Grazie mille Per il saluto E Ci vediamo alla prossima live Un bacione Mangiate tante carotine Che fanno bene Anche tu Steve Che non le mangi E ci vediamo presto Va bene Buonanotte Picchio vuoi salutare? Buonanotte a tutti Grazie Quack No Steve Devi imparare a scrivere Steve Grazie Quack Picchio E tutti morte Quack Perché? Devi imparare a scrivere Steve Che se no Sei fraintendibile Va bene Va bene Buonanotte ragazzi Bacione Quack 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 Quack